I numeri sono importanti come in tutte le edizioni, sicuramente sono in crescita. Alcuni numeri importanti sono i 70.000 presenze alla mostra dei presepi, come le centinaia di migliaia di persone in generale nei 37 giorni di manifestazioni. I 25.000 visitatori del battello Patria, i 12.000 bambini che hanno partecipato alle attività ludiche, i quasi 3.000 bambini al progetto scuola. Tempo di bilanci per la città dei Balocchi, a pochi giorni dalla chiusura della ventesima edizione. Una rassegna natalizia amatissima dai comaschi, ma non solo, con circa 4 visitatori su 10 in arrivo da fuori provincia, compreso un 3% di stranieri, secondo un sondaggio realizzato negli ultimi giorni su 1.500 persone. Attività per bambini, pista del ghiaccio e presepi, le attività più amate dal pubblico. Particolarmente apprezzato anche il Common Magic Light Festival, che con oltre 100 proiettori posizionati in città, ha illuminato in maniera suggestiva le location della città dei Balocchi. Il progetto è di altissimo livello. Dobbiamo dire che la soddisfazione è stata grande, perché è apprezzata da tutti i visitatori. Chiusa la ventesima edizione, è già tempo di pensare alla prossima. Rispondendo alle esigenze degli organizzatori, che da tempo chiedono di poter programmare con anticipo la manifestazione, l'assessore alla cultura del Comune di Como, Luigi Cavadini, ha detto che l'amministrazione comunale quest'anno intende partire prima dell'estate. L'obiettivo sarebbe quello di programmarla partendo prima della primavera, il prima possibile, e come abbiamo già detto, possibilmente programmare non la prossima, ma le prossime due edizioni almeno, per consentire agli organizzatori di ragionare in modo più tranquillo, di programmare, di costruire magari anche qualcosa di nuovo.